Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo episodio della vanilla Non so come chiamarla perché dovete scegliere voi Però per adesso la chiamerò vanilla, anzi no, facciamo così La chiameremo una normale vanilla anche perché è una vanilla Poi in futuro quando useremo le mod magari andremo a mettergli un nome più sensato per il tipo di mod che sceglieremo Però adesso iniziamo con l'episodio Let's go Ok ragazzi, io sono spawnato proprio qui, non mi ero spostato di un millimetro Non ho esplorato manco un po' il mondo, lo sto vedendo adesso con voi Allora, io direi di uccidere la pecora qui perché in tal modo Ok già sto facendo schifo Andiamo... ma che c***o? Ma... ehm... ok va a posto Allora, io direi di andare a uccidere la pecora che dove... Allora, lo facciamo così Non pensiamo subito al letto e alle robe varie Pensiamo a robe che possiamo fare subito Cioè una casita piccola e legno classica come in ogni inizio di una vanilla Ok Vediamo di prendere all'incirca... ma che ne so Una ventina di blocchi tipo Andiamo un po'... e la madonna Quanto è lungo il raggio che posso colpire? Ah infatti era troppo bello E vabbè ci sono questi qui Allora Ok Bene E... let's go Ok Poi... questo qui E cioè... ehm... potrebbero bastare forse anche già così Però magari se lo colpisco con l'esatto Aspetta che... Come iniziano a mettersi in mezzo ai... Cosi che non posso nominare E... boom Dai un ultimo almeno Non proprio 15 Ok va bene anche così E vabbè dove facciamo una casa? Non lo so Già che ci sono lo faccio Aspettate Ci provo Eh ma faccio schifo Dopo magari Un futuro Farò il letto Però la voglio adesso E la carne Questo Benissimo Andiamo E dove posso fare una casa? Voglio un posto bello Aia Che cavolo è successo? Non so Se è pagato qualcosa Ma Lasciamo perdere Allora Tipo Ah già Questa è la versione Aggiornata Quindi ci sono anche i pesci sotto Giusto? Bellerrimo Bello bello Allora Sera Ok Lasciamo perdere tutti i bug Che stanno accadendo In questo preciso istante E... A me piace anche qua A me piace qua Cioè non è che Chissà che reggia Ci esce Però Per il primo episodio Direi che ci sta Tanto ci sentono i pesciolini Che nuotano Ma che ne so Tipo Qui sopra Andiamo Andiamo a vedere Non è male Ci esce bene Secondo me Posso subito andare a pescare E la La è bella Anche No lì è perfetta No raga Vabbè sto trovando tantissime cose Andiamo di là Oh my god Subito ci voglio arrivare Dai Su Ma non è perfetto Ma ci sono anche già dei polli Perfetto lì Andiamo a vedere Che ci esce Eccomi Qua C'è anche Le carne di bambù E' carino Si presenta bene Ma gli alberi Non li voglio levare Perché Solo C'è Fanno figura C'è anche un maielino Voglio lasciare la fauna Dai Non voglio massacrare E Iniziamo Allora Eh Aspetta Si scorre No Si clicca Allora Devo mettere la fabbricazione No Eh Allora Beh Aiuto Allora Ecco Perfetto Ok 52 blocchi Mi bastano Per fare una piccola casetta Allora Iniziamo Con Allora Fare la casa C'è una casa normale Quindi Siamo Cioè Non ci inizierebbe Dal pavimento Però Mettiamo Tipo Eh sì Dio però Se non ti devi Allora Allora Questo è un punto di riferimento Che è il centro della casa Poi Non so Va bene anche che è grande Così Andiamo A fare le mura Si devi per favore Ok Va bene Così Poi Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Mino Quello non può essere il centro Sarebbe troppo grande No No Un'uscita simmetrica Aspettate Ovvio Fai niente Faccio così È il caso di procurarmi qualche Asha Barra spada In caso Accade qualcosa Ecco qua Bene Bana Ritagli Perché dura un botto Fra la casa Sì Vabbè Ciao Sbaglio anche a mettere i blocchi Il pavimento lo lasciamo Forse Cioè Dipendere ai blocchi No Ma quello è rimasto Dentro E vabbè Fai niente Ok Perfetto Molto meglio Shiftato Dai No Guarda Come cavolo Lo sapevo Dovrei levare un albero Ma non Cioè Non posso levare questi alberi Sono belli Vabbè Vabbè Qua ci metterò Qualcos'altro Delle costruzioni Al massimo Dai Mi sta procurando La stessa linea Che avevo prima Con un albero solo C'era la stessa Però Cioè Quasi la stessa Mamma mia 8 Chissà se ce n'erano altri Ci mettiamo qua E vabbè Metto A farmi i blocchi Fatto i 32 Ne bastano Sicuro Andiamo a metterlo qua Andiamo a metterlo qua Questo Quello se esce Prima che Ok Perfetto Cioè è uscito Tutto A dovere Quindi Ora manca solo il pavimento Però Prima che faccio il pavimento Alla persona intelligente Magari Vado a fare Prima La porta Che non mi ricordo Allora No la craft intibula Innanzitutto Prima di tutto Che andiamo a mettere Qui E la porta Non me la vuole dare Per quale motivo Forse Servono gli stick Non lo so Boh che serve Per la porta Ma questo C'è Niente C'è nient'altro E boh che ne so Io adesso Come Allora Allora Voi mi avete rotto Me ne sbatto Di quello che ho detto Prima Ok Che ne so Metto un blocco Di terra Random Così Che ne so Ci salto Vabbè E' una cagata Però basta che ci campo Dai Tu levati Se dita Poi Beh va bene Già così Cioè non è che devo fare Sbutare i farm Tutto quanto E questo è Pile Epidodio Però Voglio fare Anche qualcosa Del tipo Oltre a mangiare Che non me lo mangia Né Mi lo ha A picchiare Abbastronato Un creeper Tipo E se ci muoio Tiro Tantissime Parolacce Che non si può Quindi ci provo Lo stesso Notato Va via Aia Ok Morto Ho eliminato Le minacce Che potevano Infliggere Casa Bene Senza volerlo Mi sono messo a nuotare Come Ho sempre voluto Ma mai scoperto Quindi ragazzi Come primo episodio Cioè non è che Chissà che serie Sembra che ci uscirà Però Cioè Voglio dire È il primo Diamine D'episodio Quindi è normale Ma non lo so Qua mettiamo la terra Dove dobbiamo mettere la porta E va bene Così Quindi ragazzi Spero che Anzi no 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 Un secondo Facciamo il tetto Facciamo il tetto Già che ci sono No Aspettate Facciamo Il secondo episodio Già Sembra che È una serie Molto più normale Qua lasciamo così Che voglio tutto Già il legno Senza mettere la terra E può bastare Così Aspettate Voglio vedere un attimo Che obrobrio C'è uscito Boh Boh No Ave tanto Oramai Non è che Chissà che cambia Terra più Terra meno Ok E Chi a sé È un obrobrio Cioè Alla fine Se ci stava la porta A qualche finestra Usciva anche bella Però Vabbè Cioè bella Meglio di così Però Buono Vasta che abbiamo Cioè un posto dove Non c'è Taccani mostri Quindi Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Pettete un like Se non l'avete ancora fatto Iscrivete al canale Se non ci sono ancora iscritti Mettete la campanellina Per non perdere I suoi mio fantastico Video Quindi da The Wolf Player E la casa Che è un obrobrio E dal maialino Quei al fianco È tutto Ciao a tutti Ciao a tutti